fa niente? faccio vedere come è? dobbiamo fotografare da lì al sotto ma io sto facendo direttamente il video vieni perché così la gente non ha capito in che condizioni siamo allora qua in pratica? devi guardare qua sotto vai avanti, vai avanti, vai avanti a sto cazzo vedi uno adesso veniamo di qua e andiamo a vedere, aspetta di qua da questa parte ecco dove si è aperto il nuovo arco guarda non ciò che fa il mio vieni a via vieni a via vieni a via stai venendo sul mondo vieni è uno scherzo questo no, per niente guarda il problema che mi cade guarda guarda si guarda là non basta immaginare poi si lavora sotto il gallangolo là guarda il gallangolo là guarda qui è un po' buio si si vede si vede occhio nudo ma non so se si vede filmato no è lassù dove cazzo è finito il torrente no non si vede tanto da qua non ti aspetta eh e non la vedi perché c'era di dietro eh non la vedi per quello lassù la vedi la valle ahah la fa no perché eccetto la casa lì si al limite la metto in pause e riprendo dopo